Amiche e amici di Rosseni TV, bentornati al nostro appuntamento del lunedì sera con Check Up Obiettivo Salute, terza stagione, siamo nella struttura di Fisioradi Medical Center e questa sera abbiamo ospite Stefano Lavanna. Stefano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Stefano Lavanna è un kinesologo, è laureato in scienze motorie e affronteremo con lui un tema interessantissimo che è quello dell'artrosi, però ve lo diciamo subito, in realtà è solo lo spunto iniziale per poi allargare tantissimo il discorso, Stefano. Ha una grande esperienza in quello che riguarda proprio il trattamento di questa patologia perché appunto è un punto di partenza dal quale tante volte si ragiona per dire che qualcosa nel nostro organismo sta cambiando. Diamo subito una definizione di questa patologia, Stefano. Allora Antonio, possiamo dire che è una patologia che purtroppo ci accomuna un pochino tutti perché è un po' figlia del comportamento del nostro corpo perché comunque il nostro corpo cresce quando siamo più giovani e arriva al suo fulcro, al suo massimo per poi degenerarsi piano piano, quindi andare incontro a quello che tutti noi purtroppo cerchiamo di combattere che è l'invecchiamento. Andando un pochino più nello specifico, l'artrosi è una patologia che riguarda soprattutto le articolazioni anzi in particolare le articolazioni perché comunque muscoli, ossa, cartilagini, tendini lavorano in maniera sincrona e in maniera di sia magari spesso possiamo pensare alle ginocchia magari i nostri nonni sentono l'artrosi alle ginocchia, questa condizione che chiaramente l'uso, l'utilizzo rende questo impoverimento, questo decadimento un pochino più intenso e di conseguenza dobbiamo essere bravi a contrastarlo perché comunque come abbiamo detto prima a parte incidenti, a parte situazioni diciamo clamorose che accelerano in maniera importante questo procedimento, è qualcosa di fisiologico, quindi chi più o chi meno tutti in teoria ne siamo sottoposti. Quindi magari può capitare, l'hai detto benissimo, di sentire un dolore al ginocchio e uno crede di aver fatto un movimento sbagliato, di aver fatto qualcosa che non va bene di aver utilizzato male l'articolazione, non è detto, potrebbe essere anche artrose. Esatto, un principio, chiaramente che non è una cosa che la possiamo definire o bianca o nera ma è una cosa che va incontro a un suo processo, quindi piano piano da qualche piccolo segnale magari questa cartilagine che è questa struttura che ricopre le nostre ossa che evita appunto che queste vadano a contatto all'interno dell'articolazione si degradano piano piano e di conseguenza questo può crearci chiaramente in primis dolore e poi successivamente anche un'imitazione un po' funzionale nelle nostre cose quotidiane. Quindi Stefano è ovviamente importantissimo diagnosticare di cosa si tratta e attraverso una visita, attraverso un percorso, capire poi effettivamente come affrontare questa artrosi. Hai usato una parola molto importante per noi che è percorso perché noi in Fisorati Medical Center abbiamo la possibilità di offrire proprio un percorso a 360 gradi che parte dalla diagnostica, quindi non solo ipotizzare di avere un malanno o in questo caso un principio di artrosi piuttosto che una rottura di una struttura ma diagnosticare con un esame che può essere un RX, un attacco, una risonanza e poi conseguentemente far visionare a un medico, in questo caso un ortopedico per far valutare la situazione e di conseguenza con un piano fisioterapico cercare di intanto eliminare il dolore e possibilmente cercare di far sì che la persona possa intanto ricominciare la sua vita a 360 gradi. In più, chiaramente qui spesso una lancia in mio favore, continuare in un percorso che poi conosci benissimo che è quello di cominciare a rinforzare e a riprendere motilità e vitalità del proprio corpo come con l'esercizio fisico, chiaramente quando poi la situazione del nostro dolore, della nostra articolazione è tornata alla normalità. E infatti qui in Fisiorati Medical Center esiste una palestra che è una palestra attrezzata da tutti i punti di vista per far sì che si possa affrontare questo percorso e Stefano è uno dei professionisti che in palestra aiutano le persone nel loro percorso è un cammino, un cammino vero e proprio verso il comprendere come muoversi meglio e come rinforzare la propria struttura, Stefano. Assolutamente sì, come percorso hai usato prima, a me piace utilizzare in palestra una parola che adesso si sente un pochino di più perché l'esercizio fisico sta diventando una parte fondamentale di tutti i percorsi di salute, perché fondamentalmente di salute che stiamo parlando, che vanno a verificarsi. La parola percorso va secondo me insieme a progressione, perché secondo me, a parte qualche caso molto sporadico di cui magari come al solito ne parliamo sempre a parte, l'esercizio fisico è qualcosa che va sempre in progressione, perché il nostro corpo comunque per migliorarsi ha sempre bisogno di uno stimolo nuovo e differente, che poi magari possa essere qualche volta in questione di tempo, qualche volta in questione di ripetizioni, qualche volta in questione di peso sollevato, però il nostro corpo ha sempre bisogno di essere stimolato, non si deve annoiare perché la noia del nostro corpo porta un po' ad afflosciarsi, a non dare il meglio di sé. Quindi diciamo che se c'è qualcosa da fare, ogni volta si cerca di fare qualcosina in più chiaramente in maniera coerente con quella che è la propria prestanza fisica e con quello che tu individui come essere proprio il cammino, questo percorso di cui parliamo, più adeguato per la persona. E' bello a volte anche scoprire qualche volta le facce di chi partecipa a questi percorsi, di chi ha voglia di investire nella salute del proprio corpo e quando si meravigliano nel dire ma io questa cosa non riesco a farla e quando poi riescono a farla la soddisfazione è doppia perché comunque io sono stato contento di aver sottoposto la persona a una novità che ha fatto fondamentalmente il suo bene e la persona è stata contenta nel dire wow io effettivamente questa cosa la posso fare, quindi se messa insieme nel punto giusto del percorso io penso che nulla è precluso, anzi è uno stimolo per dire torni a casa un po' più ringalluzzito se questo si può definire. Sì ed è proprio un po' il segreto dell'attività fisica, il segreto dell'attività fisica che peraltro tu fai anche in prima persona è proprio quello di dare al nostro organismo movimento e dinamicità, quindi è importantissimo fare attività fisica. Assolutamente sì, ormai si sentono anche i muri cantarla questa frase ma fondamentalmente il motivo è semplicemente che il nostro corpo ne ha solo che di benefici, magari possiamo fare solo un piccolo cappello differenziando quella che è l'attività fisica, l'esercizio fisico che noi tutti comuni mortali possiamo condividere nelle nostre giornate con persone amici nel modo in cui ci piace di più, che possa essere uno sport di squadra, uno sport individuale, una lezione con gli amici e quant'altro e a differenza di chi magari effettua uno sport a livello professionistico o in maniera mirata dove sono seguiti da staff importanti, sono seguiti da professionisti a 360 gradi veramente tutto il giorno, tutti i giorni e lì l'impatto fisico chiaramente è un pochino diverso, quindi uno sportivo vero da 35 anni, 36 anni magari non ha la stessa prestanza che una persona che ha un lavoro e si diverte fare attività fisica, però quello che noi dobbiamo portarci a casa è che l'attività 2-3 volte a settimana che sia un'attività aerobica o che sia un'attività di pesi contro resistenza fa assolutamente che la ciliegina sulla torta è la nostra salute. Hai aperto due argomenti che affrontiamo abbastanza rapidamente, il primo lo sportivo professionista, il team, abbiamo un esempio sotto gli occhi, il ragazzo di 22 anni della Val Pusteria che si chiama Yannick Siner che ha costruito intorno a sé un team dove esiste un concorso di professionalità davvero incredibile mirato a far sì che lui oggi sia il numero 3 del mondo, quindi parliamo di per esempio fisioterapista, preparatore atletico, quindi uno sportivo professionista va seguito in un certo modo. Ormai tutte le componenti per arrivare al top è un po' come spaccare il capello in quattro, dobbiamo cercare di avere sempre più figure, sempre più capillari che possano agire nel miglior modo possibile per cercare di dare quel qui di in più rispetto al numero 4 e al numero 2 per cercare di spodestarlo. Quindi l'attenzione e la minuziosità nel cercare il particolare che può fare la differenza ormai nel mondo sportivo professionistico è diventato con la tecnologia, con i social, con tutto quello che abbiamo a disposizione veramente fondamentale. Ed è anche giusto che tante figure si siano specializzate perché più si è specifici, un po' come siamo noi qua con 50 specialisti, la mano non è il polso, la mano non è il gomito, il gomito non è la spalla, la caviglia non è il ginocchio, quindi ognuno ha bisogno di una figura che sappia bene come si comporta quell'articolazione, quella situazione per definirla al meglio, per far sì che una risposta sia effettivamente quella che la persona ha bisogno. E in questo argomento rientra il nostro secondo approfondimento, hai detto benissimo, cioè tutti noi vogliamo fare attività fisica, tentiamo di farla, però col passare del tempo questa attività fisica cambia. Come possiamo capire quale sport, quale attività fisica, quale percorso, qual è il percorso migliore per noi? Allora, quando una persona si approccia magari in palestra che decide di iniziare un percorso presso la nostra struttura, generalmente mi piace un pochino indagare, mi piace capire quali erano le proprie abitudini, i propri piaceri, magari quello che, oppure doveva fare un po' controvoglia ma era stato consigliato di fare. Io penso che il giusto mix sia fare qualcosa che piace e qualcosa che serva. Quindi con l'andare dell'età è normale che magari una persona perde un po' d'agonismo e quindi si ritrova a fare qualcosa di un pochino più statico, qualcosa un pochino più pacifico, se così lo possiamo definire. Le linee guida generali dell'America Sport College, che praticamente è l'entità che a livello mondiale definisce quelle che sono le linee guida per esercizio fisico, lo definisce sempre in due punti, quelli che ho citato prima, l'esercizio aerobico, che è nient'altro che una camminata, una corsetta, qualcosa che possiamo trovare in questa definizione, è un allenamento contro resistenza, ossia contro dei piccoli pesi. Già fare un paio di statute di entrambe le entità a settimana sarebbe da circa 45-60 minuti, sarebbe già un grandissimo punto di partenza, perché non è solo una medicina per il corpo, ma è anche una medicina per la testa. Hai detto prima una cosa importante che vorrei sottolineare, col passare dell'età l'agonismo diminuisce, ma sei sicuro di questo? Perché si vedono certe persone che nel tempo comunque, anzi, più avanti e più quando continuano a voler scendere in campo, sono lì per tentare poi di mettercela tutta, quindi è tutto molto relativamente. Non sei da qualche parte, non fai testo. No, però sono tanti gli esempi, a parte le scherze, sono tanti gli esempi, perché effettivamente effettivamente poi c'è quella voglia di competizione. Magari quella situazione lì la riusciamo a mettere all'interno di un panorama settimanale. È chiaro che se devi giocare a calcio quattro volte a settimana, magari qualcuno storce un po' la bocca, però all'interno del menù settimanale, una partitella, perché no? È chiaro che uno deve sentirsela. Io penso che se uno si sente pronto di fare una cosa, la deve fare. Poi è chiaro che a 60 probabilmente ci si fa più male rispetto a 20, però questo non si sa mai, siamo pronti noi. E poi dopo, sai, anche lì entra in gioco la soggettività, le persone, anche perché credo che poi anche questo tema tu lo possa affrontare molto bene. Cioè si parla tante volte di età anagrafica ed età biologica. Il nostro organismo ha un certo numero di anni perché l'unità temporale li definisce, poi dopo, a seconda di come utilizziamo il nostro corpo nel tempo, sicuramente potrebbe essere che a una certa età l'età biologica sia comunque più giovane rispetto all'età anagrafica. Andiamo di fronte, anzi abbiamo di fronte purtroppo una società statica, una società sedentaria, questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti. e sicuramente passare a volte tra letto, posizione al lavoro, attività quotidiane, più dei due terzi, penso di essere stretto, di giornata, seduti, sdraiati, comunque non in movimento, penso che alla lunga il nostro corpo lo possa pagare. E lo paga la società, perché fondamentalmente siamo molto pigri, davanti al smartphone, al computer, insomma tutto quello che non sto qui a rigirare la... Infatti in chiusura ti volevo proprio chiedere questo Stefano, considerato che tu hai un ampio sguardo su questo aspetto sociale della nostra vita, secondo te è vero o è banalmente un partito preso dire che i giovani oggi si muovono meno perché sono attratti più da altre cose? Io ho avuto la fortuna di lavorare con bambini e quant'altro, da quando avevo 15 anni, dai primi centri estivi, insomma quello che era fondamentalmente un intrattenimento estivo e fino all'anno scorso ho fatto dei progetti con le scuole elementari. Dandomi un po' a volte un piccolo brivido, a volte facevo sempre questa domanda, quanti mai di voi si sono arrampicati su un albero? Le mani alzate via via nel tempo erano sempre meno. Io penso che questa cultura sia difficile da ritirare fuori, quella che avevamo... mi sento un po' dalla vecchia generazione, io non lo stesso. Pur essendo te molto giovane ancora. Sì, mi ritengo ancora giovane, diciamo. Di aver passato la mia infanzia nei campetti, nei prati, andare con le biciclette, con i palloni, fino a che non faceva buio, inzaccherarmi, tornare a casa con le ginocchia sbucce, penso che si sia un po' persa questa cosa e non so se sia ripresentabile nel tempo. Sicuramente fa brutto non rivedere queste generazioni crescere un po' come noi, quindi il fare sport potrebbe essere, anche se ormai siamo tutti più votati alla forma che ha la sostanza, diciamo che rivedere nello sport potrebbe essere un'altra forma per dire, ok, non faccio il campetto, non faccio vita da strada, se così si può definire, però sto nello sport, che è un luogo comunque sicuro, è una scuola di vita, perché comunque lo sport è una scuola di vita. Con questa definizione bellissima Stefano, chiudiamo, lo sport è una scuola di vita, ti ringraziamo davvero perché hai lanciato anche un messaggio importante, un messaggio importante per chi ci segue, per le nuove generazioni, definiamole così, che devono capire quanto sia importante davvero muoversi e dare al nostro corpo la possibilità di stare meglio e stare bene nel tempo. Grazie Stefano. Grazie a voi. Grazie a voi per averti seguito, l'appuntamento è lunedì prossimo, continuate a restare su Rossini TV e ancora buona serata. Grazie a voi.